Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video oggi sono qui per dimostrarvi una cosa e la cosa in particolare di cui parleremo oggi è che la pratica non rende perfetti Molti di voi mi andranno contro proprio perché io sono il primo a dirvi che la pratica è l'elemento fondamentale per migliorare sempre di più e tutto questo in parte è vero Infatti voglio parlarvi proprio della mia esperienza e molti di voi sanno benissimo che io ho iniziato proprio con la modellazione 3D La moderazione 3D è stato un elemento fondamentale che mi ha fatto avvicinare poi realmente al mondo dello sviluppo di videogiochi Dall'età di 16 anni mi piaceva utilizzare veramente tantissime ore al giorno Blender 3D e questi erano alcuni dei modelli che mi piaceva fare Ore e ore di allenamento giorno dopo giorno mi sono reso conto che miglioravo sempre di più, conoscevo sempre di più il software e vedevo anche che i modelli 3D che realizzavo erano sempre più belli ma veramente di poco Infatti la pratica ti permette di crescere sempre di più in quel determinato ramo o campo a seconda di quello che voi state facendo Disegno, sviluppo videogiochi, modellazione 3D, qualsiasi cosa anche se ad esempio vi occupate di produzione di musica Mi sono reso conto che la mia crescita era poco poco esponenziale quindi miglioravo sempre di più ma in maniera molto molto lenta La mia aspettativa e l'aspettativa di chiunque di crescita grazie alla pratica era molto più alta rispetto poi i risultati effettivi E mi sono reso conto che l'elemento fondamentale che ti fa avere proprio dei boom di conoscenze e di miglioramenti effettivi sono invece i tutorial, le guide e i corsi Infatti oggi voglio parlarvi proprio di questo La pratica è vero che rende perfetti ma solo in parte Se a noi ad esempio piace disegnare è vero che mettendoci giorno dopo giorno sicuramente miglioreremo sempre di più Ma è vero che se ad esempio noi stiamo disegnando un volto noi continueremo a farlo sempre nella determinata maniera Magari ci rendiamo conto che stiamo sbagliando le ombre, stiamo ad esempio sbagliando le forme e così via ma faremo sempre gli soliti errori Nel momento in cui magari noi seguiremo un corso o semplicemente guarderemo dei tutorial su internet Grazie a quei minuti o ore spese a vedere quel corso e a seguire quella lezione ci renderemo subito conto invece quali sono le tecniche per realizzare degli ottimi volti Oggi infatti voglio parlarvi proprio di questo perché la pratica non rende perfetti Questo secondo me La pratica però è l'elemento fondamentale che ognuno di voi deve fare in qualsiasi campo Specialmente se state sviluppando videogiochi E sono il primo a dirvi che dovete mettermi almeno un paio di ore al giorno Non c'è né domenica né festività Ogni giorno da lunedì alla domenica anche semplicemente 30 minuti al giorno Questo vi permetterà nel corso del tempo di migliorare veramente tanto Ma se non c'è un elemento fondamentale che è lo studio non andrete molto lontani Per realizzare i miei videogiochi io ci ho messo veramente tanto tempo Mi piaceva sia allenarmi con i tool e poi ammettiavolo Seguire un corso o un tutorial è molto noioso Ci piace sempre buttarci subito all'interno del programma e sperimentare Ma tramite i videocorsi che ovviamente trovate i link di iscrizione videocorsi gratuiti Io in pratica vi ho spiegato in pochissime ore 3-4 ore tutto quello che invece io ho imparato nel corso magari di mesi Quello che vi dico in questi video sono cose che ho imparato in moltissimo tempo Ma tutte quelle persone che magari non guardano i miei video Cosa succederà? Che magari apprenderanno le stesse identiche cose Ma ci staranno molto molto più tempo Per questo motivo sono qui per dirvi di investire il vostro denaro Investire specialmente il vostro tempo per seguire dei videocorsi, corsi online, tutorial e guide Su qualsiasi cosa Vi piace produrre musica? Bene, su internet Seguite dei corsi dedicati proprio su questo Perché lo studio è l'elemento fondamentale che ti fa avere effettivamente una crescita Vi consiglio ad ognuno di voi di approfondire molto questo argomento Infatti voglio mettervi proprio in relazione questi due grafici Che sicuramente già avrete visto nel corso del video L'allenamento e la pratica fa soltanto che bene Specialmente se è costante Qualsiasi cosa voi volete fare nella vita L'allenamento è l'elemento fondamentale che non deve mancare E anche la costanza Ma con questo video voglio parlarvi invece che non dovete sottovalutare lo studio E l'apprendimento tramite corsi e tutorial Di persone che hanno utilizzato quel tool Ma che fanno quello che voi volete imparare da molto più tempo di voi Per questo motivo vi voglio dire che ad esempio Io che ho realizzato il mio platform in pochissime ore Non vuol dire che magari ognuno di voi non può impararlo a farlo da zero Ma magari io in pochissimo tempo vi vado a spiegare cose Che ognuno di voi non conosceva E sicuramente magari grazie anche a quel corso Potete imparare molte molte più cose Per questo motivo vi dico anche di vedere la playlist sul canale Dove vi faccio vedere un gioco dall'alto E' vero è un po' noioso seguire qualcuno Fare un gioco che a me non interessa fare Ma in quel corso vi vado a spiegare cose Che potete poi riutilizzare anche per altri videogiochi E sicuramente vedremo anche nel dettaglio Alcune funzionalità di Construct Che invece tu magari non utilizzeresti inizialmente Per i tuoi videogiochi Quindi ragazzi la domanda a cui voglio rispondere a questo video Insieme a voi è La pratica rende perfetti La risposta è nì Nel senso che la pratica assolutamente fa più che bene E voi dovete sempre di più allenarvi Ma non sottovalutate invece lo studio Tramite corsi, videocorsi e tutorial gratuite Che ci sono anche su internet Vi auguro un buon sviluppo di videogiochi a tutti Vi ricordo che in descrizione trovate i link ai videocorsi miei Che tra poco esce anche un nuovo videocorso totalmente gratuito Abbiamo superato i 2000 studenti in totale Su tutte e due i corsi E sono veramente contento E ci vediamo quindi domani con un prossimo video Ciao Ciao